Opportunità con i fondi europei per le imprese nel settore turistico di 29 comuni fra le province di Palermo e Agrigento. L'occasione è un bando da 500 mila euro finanziato con risorse del PSR 2014-2020 della regione siciliana. L'obiettivo è quello di promuovere forme di cooperazione finalizzata al raggiungimento di economie di scala mediante l'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di impianti e risorse. I beneficiari della misura sono gruppi di piccole imprese agricole e forestali, imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali in forma singola associata, di servizi per il turismo rurale, per la promozione di mestieri e attività artigianali con un organico inferiore a 10 persone e con un fatturato totale di bilancio non superiore a 2 milioni. Ciascuna forma di cooperazione dovrà essere costituita da almeno 5 soggetti tra i quali almeno un'impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale che svolgono attività coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie del bando e che contribuiscono alla priorità della politica di sviluppo rurale. La parte da Leone spetta ai comuni agrigentini. Sono 23 quelli che potranno cogliere l'opportunità. Tra questi Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamona, Cicammarata, Casteltermini, Cattoli Caraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Porto Empedio, Calessanto Stefano Quesquina, Siculiana e Villafranca Sicula.